Ciao a tutti, io sono Fericò e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Infamous Second Son. Allora, da un pochino che non gioco, quindi non ricordo più i tasti. Facciamo un check. Non ricordavo neanche la gas così tanto. Bene. La PS4 non ce la fa. Dobbiamo raggiungere, anzi abbiamo raggiunto il luogo. La scena dell'omicidio. Sconfiggi il rispacciatore e distruggi la droga per ottenere del karma. Facciamo così. Cerchiamo di riprendere un po' il controllo dei comandi. No. Beh, è andato anche abbastanza bene, non ce l'hanno dato. Che succede qua? C'è un altro spazio di droga. Indaghiamo sulla scena dell'omicidio. Vediamo se riusciamo a beccare qualcosa per salire direttamente sul tetto. Eccolo qua. Sembra di sì. E sdungate. Supera il cancello con uno scatto fumo. E raggiungi il luogo in cui è stato ucciso. Beh, non ce l'avevo pensato. Chi c'è? Sottometti, 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 sottometti. Sottometti, dai. A posto, ne sta arrivando un altro. Vabbè, noi attraversiamo il cancello così non ci rompe più le balle nessuno. Ah, buio. Cosa sta succedendo? Brent, 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 Brent. Facciamo la foto? Sembra. Beh, fatto bene. Qua ci sono delle colombe, sembrano. Ora. Facciamo la foto alle foto. Ok, abbiamo dei volti. Beh, sono d'accordo. Questo dovrebbe essere Brent, sicuramente. Ci manca una cosa. Decisamente. Ah no, abbiamo fatto. Ah no, è qua. Ok. Beh, è figo però. Rip, Brent, quindi l'ha ucciso? O sta uccidendo tutti gli spacciatori collegati a lui? Ok, quindi l'ha ucciso? Ok, quindi l'ha ucciso per prendere e viene qui per sito con il Neon Brent, per raccontare loro tutto il giorno, mentre lei chowdera. E tu sai, Olaf ha un locale sul canale Alasko. È dovuto avere uno dei biggesti neon signi in la città. Eh, ho avuto un'Neon Brent e una chowdera jones, è dove stiamo. Va bene, andiamo lì. Attraversiamo. Missione completata. Vediamo se possiamo fare dei potenziamenti, ma non care. Da qua abbiamo quattro frammenti. Richiede karma campione. Karma campione. Campione. Questo abbiamo già fatto. Potenzia, esplosione di channel. Anzi, io me li terrerei. Siccome tra poco sembra che avremo dei nuovi poteri, li terrerei per i poteri più avanti. Ma no. Secondo me è una buona idea. 36% sotto il controllo del dupe. Qua c'è una roba qua. C'è uno di quei trova il poliziotto sotto copertura. Libera all'aria. No? Ok. Perfetto, questo tizio. Questo tizio. Non fuggio proprio da nessuna parte, capito? Eh, però... Eh, facciamo attenzione perché non siamo civili. Questa copertura è sconfitto. Eh, non abbiamo più... Granate. Meglio scappare. E' questa musica? Cosa faccio così? La missione rosa dei conti nel quartiere ora è disponibile? Sì, ma io non ero qua. Che schifo. Cioè, ho ottimizzato proprio male. Eppure è uno dei primi giochi che è uscito. Cioè, nel senso, dovrebbe essere... Abbastanza ok. Io direi di scappare. Stunk. Dobbiamo trovare del fumo ad assorbire. Eccolo qua. Assorbi. Così ci fogliamo tutte le abilità. E proseguiamo. Siamo quasi arrivati. Che brutto questo lag, proprio. Dietro a Fetch. Avvia la missione. Raggiungi l'insegna e trova Fetch. Quando l'hanno detto che si chiamava Fetch? Interrompe il ragione di tutti i visti per ottenere il karma negativo. No, no. Lasciamoli fare. Sì, 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 sì. Nasconditi vicino all'insegna e aspetta Fetch. Un posto per nasconderti. Beh. Sotto? Vicino all'insegna. E' fatto sopra allora. E' l'unico. Nasconditi e aspetta. Dove mi ha? Ah, nasconditi. Va bene? Eccola qua. E' un po' pazza, eh? Quindi sembra che possiamo assorbire da vari poteri. Ci racconta la sua storia? Quindi anche a lei l'hanno creata. E' una boss fight? Fattura Fetch. Siamo velocissimi, anche noi siamo velocissimi. Sarà. Adò, te ne hai premuto, ok. Vabbè, non male. Ma posso usarli anche combinati? C'è nel senso... Per scalare i muri, tieni premuto, sì. Che figata, questo potere è molto figo. Che cosa faccio? Prendo energia dai... E come si chiama? Ah, volevo imbrogliarmi. Prendo energia dai neon. Beh, sono d'accordo, però non c'è bisogno di scappare. Non vogliamo farti del male. Certo che... Ho capito che è notte a fare scena coi... La devo catturare? Non è che devo spararla? Adesso proviamo. Che ansia questo colore. Ne posso usare solo una alla volta. E come faccio a cambiarli? Non ce l'ho dato a sapere. Forse con questo dobbiamo attaccarla. Non voglio riportarti. Forse non ce l'abbiamo ancora. Il suo potere. Assorbi il neon? Non ce l'ha dato niente, però. Ah, ok. Dovevo solamente arrivare qua. Oh, no, no, no! Aia! Ma sta comunque catalizzando il potere nella catena? Assorbi le insegne per debolire Fetch. Ok, assorbi le insegne per 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 vedere un altro giorno. Ok, assorbiamo. Strana questa boss fight. E mancano cinque. Ehi, dai da brava. E non posso attaccarla. Devo solamente assorbire le insegne. Ah, il pericolo è che lei mi attacca mentre che lo faccio. Vabbè, prendiamo questa, no? Ecco qua, siamo morti. Come non detto. Vabbè, adesso sapiamo cosa dobbiamo fare, però. Una. Eh, vabbè, dai. Non posso attaccarla, eh. Però l'ho allontanata. Come ti ho già detto, non voglio riportarti dentro. Dovrì, rilassarti un attimino. No. Andiamo a questa. No. Uh, che male. Beh, abbiamo fatta, no? Vieni qua. Ucch. Che male. Dove sei, dove sei, dove sei. Ci vuole avvicinare per esplodere. Stronza. Vieni qua. Ti ho già detto che non voglio farti tornare in prigione. Aia, 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 aia. Che male, che male, che male. Ah. Però li sa usare, i suoi poteri, eh. Ma anche noi siamo abbastanza mirati. Ci dirà la sua storia, adesso? Ah, quindi non l'ha... Non gliel'ha dati... Agustin. Ah, il fratello, quindi. Ecco perché ce l'ha contro gli spacciatori. Drogs. Drogs per il cielo. Ma poi sempre chiamavamo più. E poi riusciamo. Agono. Sempre cercando di una riuscola. E quando perdono il tuo stagio, quando pensi che qualcuno lo ha perduto da te, Ha ucciso il fratello... per una dose? Volevano usarli? Non sta facendo un cattivo lavoro, però è un po' strana... C'ha trovato? C'ha trovato? C'ha trovato? C'ha trovato. C'ha trovato. C'ha trovato. C'ha trovato. C'ho trovato bene. Non c'è solo dove mettere il filo così. C'è un po' dove Augustine non lo troverà. E non ci farà nessuno. No, no, no. C'è solo a uccidere i drug dealers. Uccidere? Nelson... ...murdera i drug dealers. C'ha trovato con la DUP? C'ha trovato per salvare i Akomish a casa. E vabbè, anche lei ha il suo scopo, comunque. Un'altra scelta ci faranno fare. Lo sento, lo sento. No. Fai redimere fetch, corrompi fetch. Beh, facciamola redimere. Stiamo facendo l'eroe. Facciamola eroe. Ah, c'era la descrizione, mica l'avevo visto. Sì, perché la responsabilità non è proprio qualcosa che ti eccelli. Ho fatto questo. Bene. Sono qui per la tribu, dei bioterroristi. Sono un conduit. È bello. È normalmente bello. È solo... Non oggi. Sì. Belli capelli, però. Cosa faccio? Insegna a usare i poteri? Missione completata. Dietro a fetch. Assorbi il neon. Come si fa a cambiare poteri? Adesso vediamo. No. Scusatemi. Quindi dobbiamo sbloccare i nuovi poteri. No. Scusatemi. Quindi dobbiamo sbloccare i nuovi poteri. Ah, quindi siamo collegati in caffè, c'è? Eh, se l'ho un po' preso. Eh, se l'ho un po' preso. Perfetto. Vediamo un po'. Se possiamo... No, scusatemi ho sbagliato. Così. Assorbimento rapido. Assorbi neon. Beh, ci serve per muoverci. Ragio al neon. Prima il R2 per scagliare un attacco al neon a lungo ragio. Vabbè, ce l'abbiamo e già la potenziamo. Ah, si collegano così, eh? Vabbè, assorbimento rapido allora. Per ora siamo a posto. Non si capisce assolutamente niente di note. Sì, parciando sotto il controllo dal DUP. Ma se la sono un po' ripresa Georgetown, non è quella che ho liberato? Ah, perché c'è un... Un come si chiama. Uno di quei robottini, uno di quei droni. 41%. Vediamo un pochino cosa riusciamo a sbloccare con questi poteri. Non ho ben capito però come cambiarli. Li posso usare solamente, ehm... Uno alla volta, ma cosa faccio? Devo assorbire il fumo? Per usare i poteri del fumo? Fammi capire. Adesso proviamo. Cioè se io assorbo il fumo. Cambia potere. Ah. Ok. Sì, sì. Li sto tipo intrappolando? Zoom e poi spara? Ah, ok. Eh, wow. No. Shoot to kill. Hey, I heard gunfire. I told you those things can track you. No, I think they were just on patrol. Well, I found another one. I left decided to find it. See it? It's a neon marker. Uh, yeah, got it. Follow those. Vediamo. Cos'è questa roba? Segui le indicazioni di Fetch. Eh, Fetch. Just stumbled across a bit of your handy work. Think maybe you wanna dial it down a notch? Got to feed the fury, dude. Hmm? Or maybe you don't feed the fury. It'll starve to death and you become a people person. Like me. Or, or maybe you can bite me. Leggera, eh? Leggera, eh? Figata. Assorbiamo un altro potere. Ci darà il colpo caricato? Granate. L1 per intraparare il nemico in una bolla. In modo che Fetch possa sottometterli. E' male? Possiamo farla anche noi. Aia, 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 aia. Che male, 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 che male. Segui le indicazioni di Fetch. Sottomettiamo. Segui le indicazioni di Fetch, saliamo su così le vediamo. Eccola qua. Vediamo dove ci portano. Li vado, si. Dove devo andare? No, no. 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 No, no. 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 Ok di qua Poi di qua Qui Assorbi il neon Abbiamo poca energia Ci hanno visto subito Di qua proseguiamo E poi Mi sta sfuggendo qualcosa Vabbè Prendiamo questi dato che li abbiamo distrutti Io devo salire su? Beh proviamo no? Non ci costa nulla Quello è un segno? Ciao Ok un altro potere Vediamo cosa ci sblocca Tipo la Il razzo Ragio al fosforo Vieni premuto però stavolta Ok blindato distrutto Ah non posso sottometterli l'oro Fammi capire Blindato distrutto Sottomettiamo E perché no Ci prendiamo anche i frammenti Allora il fumo abbiamo Abbiamo detto che non possiamo assorbirlo più il fumo E' un peccato Seguire le indicazioni Dobbiamo continuare Seguire le indicazioni Dobbiamo scendere qua giù No? Assolutamente no Assorbiamo Non bisogna capire però come Come si può switchare da un potere all'altro Allora siamo qua no? Ok di qua Continuiamo Non vedo più Indizi Ok abbastanza Visibile Molesta Che paura Come fate entrare lì Scusatemi Bravo Hai fatto la scelta giusta Usa lo scanner Questo dovevo fare? Come si faceva a distruggerla? Bene Ora? Ah se non le troviamo ci dà le indicazioni nella minimappa? Funziona così? Fammi capire C'è che sto tornando indietro Ah no è giusto Ok Ok Oh no è giusto Ti piaciuto? Esplosione Oh figata Scusami Vegeta Un fendente radiale Vediamo Quindi è il nuovo potere Non disperdere nell'ambiente Ah fa da solo ok Beh Non male Che figata Sono facile da sottomettere però Sta scapando Sta scapando Sta scapando Prendi le gambe Prendi le gambe Prendi le gambe Prendi le gambe Sei più vicino A diventare un eroe Ciao Guardate cosa posso fare adesso Siete fieri di me? Ma che figo Cosa sono quelle missioni? Ah c'è la missione del karma positivo e la missione del karma negativo Non me l'aspettavo Va bene ragazzi Io direi di chiudere qua questo episodio Noi ci vediamo al prossimo E andremo ovviamente a fare la missione col karma positivo Perché ormai abbiamo continuato a fare Cioè abbiamo incominciato a diventare un eroe E in questa run Saremo l'eroe Quindi come stavo dicendo Noi ci vediamo al prossimo video Sempre qua Sul mio canale Ciao a tutti Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi e lasciate un mi piace Noi ci vediamo sempre qui Sul mio canale Con il prossimo video